E' terminata da poco la conferenza stampa del tecnico del Pescara Alberto Colombo in vista del match di domani allo stadio Adriatico inizio ore 14.30 contro il Giuliano. Guai a sottovalutare l'avversario, ha detto il tecnico Colombo, sono in difficoltà dal punto di vista dei risultati nell'ultimo periodo ma in questa stagione sono stati per tanto tempo la sorpresa e quindi bisogna affrontare la gara con la giusta attenzione. Non ci sarà Craia, problema muscolare per lui, andrà valutato nelle prossime ore ma si teme un stop piuttosto lungo. C'è invece Crescensi che ha smaltito l'attacco influenzale, torna in grosso rispetto alla scorsa settimana, naturalmente sempre assenti Desogus, Pellacani e Gozzi. Con le immagini di Diego Martelli ci andiamo ad ascoltare i passaggi chiave della conferenza stampa del tecnico Biancazzurro. Diciamo che la notizia negativa è il fatto che Erdis Craia sarà assente domani e poi sarà da valutare nei prossimi giorni a livello strumentale quale possa essere l'entità dell'assenza, dell'entità del guaio fisico. Per cui di sicuro domani non ci sarà, rientrerà Gianmarco in grosso e resteranno gli stessi convocati con queste variazioni di entrata e di uscita che ho appena citato rispetto ad Andrea. Quindi l'unica defezione è quella di Erdis Craia, nuova. Gli altri, Gozzi, Pellacani e Desogus, sono assenti. Questo è il bollettino medico della squadra. Crescenzi? Crescenzi è a posto, quindi assolutamente tra i convocati è disponibile per scendere in campo. Con le ultime partite aveva trovato questo assetto classico con il centrocampo a due che mi pare di capire domani potrebbe cambiare con l'inversione del vertice. Se non ci fosse stato questo infortunio di Erdis Craia e anche in prospettiva futura, l'idea di Colombo è quella 4-2 e tanta qualità indipendentemente dalla posizione di Mora? Io credo, come ho detto, Mora è una ragazza talmente intelligente, un giocatore talmente intelligente di esperienza che in qualunque zona del campo con le sue caratteristiche si sarebbe adattato alla grande. E poi non era per forza obbligatorio che Luca dovesse giocare anche se è un giocatore che ci dà molto. Nel senso che da qui a fine stagione, come abbiamo detto, dobbiamo essere bravi nel coinvolgere tutta la rosa secondo i momenti dello stato di forma. Quindi può essere che Luca sia in un buono stato di forma ma che altri giocatori nel reparto offensivo siano ancora più performanti in un determinato periodo e vanno sfruttati. Semplicemente questo. Quindi senza nulla togliere a uno o all'altro, oggi abbiamo l'interesse di portare quasi tutta la rosa ad un determinato livello, chiaramente scegliendo in base al momento dello stato fisico individuale di ogni giocatore. Ci sono momenti psicologici difficili e a volte positivi. Tutti li abbiamo vissuti o li stiamo vivendo. Oggi magari troviamo un avversario che può essere, passatemi il termine, in difficoltà. In realtà poi è determinato molto anche dagli episodi. Perché l'ultima partita sappiamo tutti come è stata persa con un episodio al novantesimo dove poteva cambiare il risultato e probabilmente cambiava anche una dinamica di classifica in modo che il Monterosi non si avvicinasse così tanto ad un gruppo folto che c'è a 34-33 punti. Quindi quello ha sicuramente messo pressione a diverse squadre. Per cui io mi aspetto una squadra che abbia voglia di fare punti perché ha la necessità come tutto il resto delle squadre. È una squadra che è tignosa, rognosa. Abbiamo visto anche l'andata, al di là di come è andata l'episodio, però ci poteva mettere in difficoltà e ci ha messo in difficoltà in alcuni momenti. Ha dei giocatori esperti e giocatori che vogliono dimostrare il valore che hanno dentro di sé. Per cui è un mix che fino a poco tempo fa ha sorpreso tutti. Credo che poteva annoverarsi tra le sorprese del campionato. Quindi massima attenzione perché è una squadra che sa difendere ma poi sa anche contrattaccare negli spazi perché ha giocatori di gamba sia nel reparto offensivo sia sugli esterni. E poi è una squadra che sulle palle inattive è sempre pronta a colpire, ha dei buoni tiratori dalla distanza. Come tutti ha un'organizzazione buona perché ormai è difficile non trovare questo nelle squadre di Serie C sarà una partita veramente complicata e starà a noi a farla diventare semplice ma non è scontato. Io credo che corra il rischio di essere una partita tirata fino alla fine. Io voglio fare questa domanda su Raffià e Merola nel senso che la scorsa settimana ne avevamo parlato e aveva detto che in settimana probabilmente si notava che avevano accusato un po' la stanchezza di aver giocato una partita intera dopo che venivano da una lunga inattività e ad Andria si è visto che non erano brillanti. Come li ha visti questa settimana e col nuovo assetto, quello che potrebbe esserci con un centrocampista in più, nel 4-3-2-1, 4-3-3 che dir si voglia, che movimenti gli chiede a fianco della punta centrale? Grazie. Allora, è chiaro che sono in leggera crescita rispetto alla settimana precedente dal punto di vista fisico, ma proprio perché noi dobbiamo cercare di far sì che questi due giocatori che hanno impressionato tantissimo alla prima partita per motivazione e per brillantezza, soprattutto mentale, debbano trovare la continuità nel giocare le partite. Quindi ci può stare che facciano anche dei passaggi a vuoto, ma gli dobbiamo dare per ritrovarli ad una determinata condizione la continuità. Quindi anche il fatto di poter sbagliare, poter essere meno brillanti della partita precedente, eccetera, eccetera, conta relativamente perché dobbiamo portarli in condizione, se così si può dire, il prima possibile, perché hanno poca abitudine nel giocare con continuità. E la partita è un dispendio di energie non solo fisiche, ma anche mentali e ricostruire gli stimoli per la partita dopo, quando non si è sempre abituati a scendere in campo, magari è il tasto su cui battere, su cui lavorare. Quindi sia su quello fisico sia su quello mentale abbiamo bisogno che questi ragazzi abbiano un minimo di continuità. Poi è chiaro che il campo rimane sempre l'unico giudice, quindi nessuno ha la maglia da titolare in eterno, nessuno può essere considerato una riserva per tutto l'anno. Per cui ci sono momenti e momenti. Oggi abbiamo questo obiettivo con questi due ragazzi. I movimenti credo che possano essere differenti, perché magari Raffià è un giocatore a cui si può chiedere di venire più dentro il campo a lavorare, perché abbiamo visto come caratteristiche più rifinitore. E invece Merola è il classico giocatore da 4-3-3 da esterno o addirittura da punta.